un film particolare un titolo particolare un po forte alcol è del 1951 il protagonista una star di quei tempi James Cagney il regista Gordon Douglas un titolo diretto alcol nel senso di liquore whisky brandy liquore in generale richiama alla mente richiama alla mente una persona in questo film si parla di una persona alcolizzata di un giornalista che per vicissitudini personali è entrato in questa spirale era diventato alcolizzato perdendo tutto perdendo lavoro perdendo l'amore della sua donna perdendo ogni cosa e se vedete il film all'inizio proprio non reso conto di quanto uno è caduto in basso ecco quando uno ha un vizio di questo tipo io faccio un po fatica a immaginarmelo perché sono astemio e quindi è una cosa per me nuova so imitare molto bene gli ubriachi però non sopporto l'odore del vino tanto più del liquore o della birra invece alcuni induggono in questo e gli piace proprio tanto come il fumo anche a me non piace fumare assolutamente per me è un sapore disgustoso però tanti fumano 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 e donne uomini ragazzi ragazze e hanno questi vizi che a volte diventano pesanti fanno parte della nostra vita questo è uno dei primi film è un film del 51 in cui viene proprio trattato questo tema all'inizio appunto in altri film il ruolo dell'alcolista era considerato un po un ruolo comico qui invece viene proprio descritto come patologia c'è di fatto che però questa persona appunto kenny che in persona questo giornalista ne viene fuori riesce a con un grande sforzo di volontà a venirne fuori e si trova ad aiutare il nipote del suo capo che anche lui è caduto in questa spirale di vizio anche lui innamorato della donna di un gangster e tanti problemi e quindi è caduto in questo che lui conosce bene che appunto kenny in questo caso il protagonista conosceva bene e quindi questo si vede l'aiuto che di quest'uomo da un altro e viene trattato questo tema della dipendenza alcolica come non tanto questo problema quanto il conforto che può avere una persona in un'altra come può essere forte no quando uno si trova debole alcuni hanno un grande una grande forza di volontà come smettere di fumare altri hanno bisogno di un aiuto per uscirne fuori oppure chi è dipendente dalla dalla droga uguale ecco e c'era stato un altro film che era stato interpretato da da frank sinatra l'uomo dal braccio d'oro che anche lì c'era dipendenza della droga lui si doveva un batterista che però si doveva disintossicare dalla dalla droga anche lì altro tema legato a quest'izi che poi diventano appunto delle proprie patologie e quindi qui viene visto come un aiuto che un altro può può dare mi viene in mente oggigiorno appunto quelle comunità oppure quelle leghe gli alcolisti anonimi in cui si ritrovano e parlano per uscire da questo vizio perché tanti soprattutto i giovani anche il giorno d'oggi con gli aperitivi e con altre cose si ubriacano si ubriacano e prendere questo vizio già da giovani porterà progressivamente alla rovina al decadimento fisico cirosi epatiche e tutto il resto e quindi questo è un film da un tema forte un tema forte che viene giusto affrontato anche all'inizio l'ambientazione a New York è vista come non è vista una città bella ludica e tutto il resto ma è vista come una città ostile con interni appunto pesanti che riflettono questo stato d'animo a questa persona all'inizio il protagonista che stava male che era alcolizzata è un film quindi che ci fa riflettere, fa pensare è sempre valido perché questa patologia ce l'hanno tantissime persone l'hanno avuta in tutti i tempi un film didattico io direi sempre della Hollywood degli anni d'oro con un appunto James Kenyon un grande attore negli anni 50 ancora in voga anche se il suo posto dopo è stato preso come star da Henry Bogart comunque prima di lui Kenyon è veramente considerato una... mi pare che sia nelle prime dieci quindi dall'American Film Institute nelle prime dieci star di tutti i tempi rientra nei primi dieci posti quindi guardate questo questo titolo Arcol io non l'ho trovato molto... mi sembra troppo diretto troppo pesante avrei trovato un altro modo per descrivere la situazione ma a volte gli americani sono molto diretti sono molto puntuali in quello che vogliono dire allora guardiamolo e ci aiuterà magari se qualche nostro amico o noi stessi cadiamo in queste cose penso che possa insegnarci qualcosa glu glu grazie a tutti grazie a tutti